In Italia, a differenza di tanti paesi come Olanda, Belgio ed Australia, non esiste una normativa che obbliga a indossare il casco protettivo in bicicletta su strada, ma lo è solo per determinate competizioni e corse agonistiche. Tuttavia, anche se il codice della strada non impone questa regola, ognuno di noi ha un senso civico che gli fa comprendere che l'utilizzo di questo accessorio salva le vite e contiene i danni causati dagli urti. Oggi voglio porre l'attenzione su quando magari dei genitori portano a spasso il proprio piccolo bimbo in bicicletta nel seggiolino montato sulla stessa. Io non vorrei mai che il mio piccolo nipotino fosse senza caschetto nel seggiolino montato sulla bicicletta ed il mio consiglio è, quando lo trasportate in questo modo, è sempre di farglielo indossare. La sicurezza è una cosa importantissima. Inoltre i caschi sono diventati sempre più comodi e leggeri e sembra quasi di non averli in testa. In questo video vi mostro dei caschi che può indossare già un bimbo di un anno, che partono da una circonferenza testa del 44, ma che con una rotella si possono regolare e adattare per tante misure. Ma il mio consiglio va a tutti quanti, bambini, ragazzi ed adulti. Proteggersi è sempre un'ottima cosa, quindi è sempre sempre un'ottima cosa indossare il casco. Valutate voi il percorso che dovete fare, ma se tenete il casco in testa è sempre la cosa migliore. Ciao!